Come va a procedere di me? Non sei male, sono un po' in ritardo. Dovrò sbrigarmi a sapere la pausa. Per quello che si fa, non mi vale la pena. È l'unico lavoro che ho. 들어� albilanzhiere la possibilità diurannare il sensabili del mercato in alcune aumento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.